Oggi l'avvocato Covelli cambia vita. L'unica donna sarà mia moglie. Pensa che palle. Chi è? Non lo so. C'è un uomo voluto in camera dove sai chi è? Sai, a me in Italia piace proprio tutto. Totto Cuttugno, i ricchi poveri. E' un vecchio ti piace proprio. Eh, non scherzare. E' una vita che stai a dieta, ma voglio rimedi. E' la prima volta che venite da noi. Sì, è la prima volta perché di solito andiamo a sciare a Monte Bondone. Oh, splendida località. Voi che ci fate qui? Siamo venuti a Cortina perché non si può. Capo! Ci hai portato il vino del 2015, fra tre anni? Quella non è l'annata. È il presso. Le piace, avvocato? Eh? E' un regalo azzeccatissimo. Ti rendi conto se il Presidente viene a sapere che chi gli tromba la moglie è quel deficiente del mio autista? Un bicchiere d'acqua, per favore. 12 euro. Accettate, buoni i lingotti. Lo conosco. È un ricco, giovane. Sì. Alla metà dei tuoi anni. 24 anni. Te cali l'anni? Ce n'hai 56, mica 48. Il Principe. Amore, Emanuele ci ha chiesto se ceniamo con lui e i suoi amici. Emanuele, ospite? Sta passando a dire. Sì o no? Che lavoro fa lei? Vento i giornali. Ah, editore. Ma lo sai che vipa Santo Stefano? Non vanno nei ristoranti. Non si mischiano. Stanno tra di loro, tra i loro amici. Massimo? Brunella. Allora, sei tu? Quello che va a letto con mia moglie. Ma che ti conosci a te e tua moglie? Ma non la conosci, quella che te la facci, eh? Mangiavi insieme qui al cabinetto. Ospiti? Claro, amicargo. Ma perché quando si tratta di maniano rispondono mai in italiano? Ma che me te lo dici con sto ciccione? Roberto, questo è il nuovo parroco. Ma che l'hai da da pure al parroco? Mandina, oggi è sacera, eh? Voglio che prendi solo la roba che costa di più. Come sei subtolo! Mamma mia, che preci.